Oggi ha inizio un nuovo fotogramma e l'apertura di questo nuovo account, ma vuoi che sia, perché io mi improvviserò come un narratore di eventi che succedono quotidianamente, ma vuoi che sia, ma vuoi che sia, che oggi è il primo settembre e c'è il tempo brutto, ma vuoi che sia, ma vuoi che sia, ma vuoi che sia.